Qua Andiamo subito qua da Frost, nella foresta Vabbè, vabbè, quello lì C'ha le granate, occhio, valla a uccidere, valla a uccidere Valla a uccidere, a destra sta Sì, rispite, ci sono gli altri Rianima, rianima C'è un altro di due C'è un altro di due Uh, c'è un scaroro qua Mi sto curando, aspetta Stanno io? Lo so, lo so, aspetta Aspetta un attimo C'è un granato, c'è uno nella casa adesso Eh, ma no, ma... non sta proprio in safe qui, eh? Oh! 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 non stanno mai da casa l'ho ucciso ecco lui c'è una a sinistra si ma tu che abbiamo fatto andrea quanto ci sono i fatti? quattro io cinque